E prevenzione è la parola d'ordine della città di Postiglione, del comune di Postiglione, dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Cennamo. E proprio qui a Palazzo di Città questa mattina si è tenuto un primo incontro con il medico scienziato, uno dei più importanti al mondo, di origine campana, il dottore Giovanni Corso, medico oncologo presso l'Istituto Oncologico Europeo di Milano, che qui in questa giornata ha tenuto una giornata di screening gratuiti per la prevenzione e la diagnosi del tumore mammario al seno, con un primo momento istituzionale presso Palazzo di Città in cui l'amministrazione comunale ha consegnato al dottore Corso un attestato di riconoscenza e di benemerenza in collaborazione con il patrocino del comune di Palomonte, con il centro del sistema integrato di accoglienza SAI e con l'oratorio parrocchiale di Postiglione e con un secondo momento di visite gratuite effettuate dal dottore ad oltre 50 donne provenienti da tutti i comuni degli Alburni nella Valle del Serio e del Tanagro presso il centro medico di Postiglione. Una giornata in cui la parola d'ordine è stata ed è prevenzione. Grazie anzitutto di questo invito molto importante, di questa grande opportunità di poter condividere con la comunità locale queste giornate di prevenzione nello screening del tumore al seno. Sono campagne di sensibilizzazione, queste molto utili e che vanno sempre potenziate e offerte su tutto il territorio perché permettono alle donne locali e anche a livello nazionale di aderire in maniera positiva ai programmi di screening. Questo perché lo screening, in particolare per i tumori al seno, permette di identificare lesioni molto piccole con una possibilità di guarire anche oltre il 90%. Attenzione, lo screening non significa evitare la malattia, evitare una diagnosi, ma permette, come dicevo, di identificare lesioni molto piccole e di guarire pressoché completamente. Dottore, lei è autore di importanti studi internazionali pubblicati sulle più importanti riviste medico-scientifiche del mondo. È possibile diagnosticare, addirittura grazie al DNA, attraverso gli esami sul DNA e prevenire l'insorgenza del tumore al seno? Qui siamo ancora in ambito, come dire, sperimentale. Sicuramente in futuro gli obiettivi della scienza, della ricerca, sono proprio questi. Quindi identificare delle lesioni precoci attraverso un prelievo del sangue. Ma c'è un altro fattore importante che forse fa più attenzione a questa domanda, è il test genetico che permette di identificare un'eventuale predisposizione ereditaria per i tumori al seno. Prima cosa è la prevenzione primaria. Tutti, donne, uomini, dobbiamo fare prevenzione primaria. Cioè stare attenti all'alimentazione, eliminare tabacco, alcol, perché questi fattori sono chiaramente associati ad un rischio maggiore di sviluppare anche un tumore al seno. Nella prevenzione secondaria, quindi entrano gli screening, quindi tutte le donne dopo i 40 anni dovrebbero fare almeno una volta all'anno una mammografia e un'ecografia. Le donne più giovani comunque possono fare un'ecografia al seno tutti gli anni per esempio, ma questa prevenzione, questo sistema va sempre personalizzato in base ai propri fattori di rischio e soprattutto in base alla familiarità.